Ben ritrovati, ancora uno spazio autogestito con Eros Lamaida, sindaco di Castelnuovo Cirento, candidato alla competizione regionale nella lista campagna libera per Vincenzo De Luca, presidente. Ben ritrovato, siamo quasi alle battute finali, il 31 si vota, quindi ultimi giorni di campagna elettorale, tiriamo un po' le somme, quanti chilometri ha percorso, quanti cittadini ha incontrato, quanti mani astrette, sindaco, allora davvero un duro lavoro in queste ultime settimane. Un durissimo lavoro per vincere, per portare pagine, cambiare verso la regione campagna, fare in modo che possa davvero svoltare nel segno, nella direzione di Vincenzo De Luca, noi con lui, per dare davvero ai nostri territori, al Parco di Cilento, tutta l'area Parco e la provincia di Salerno, davvero un futuro diverso, un presente diverso soprattutto e quindi un futuro migliore. Tante mani, tanti occhi incrociati durante questa campagna elettorale, dappertutto e tanta voglia di fare. Le persone nel segno di Vincenzo De Luca corrono a votare, nel segno delle persone come i nostri candidati, come me, insomma, vengono a votare e dobbiamo spingere a votare, non nel segno del populismo, quindi il 31 maggio dobbiamo andare a votare, non nel dire io c'ero, nel dare proprio contributo ad una svolta epocale. Questo è il primo invito importante. Sì, importantissimo, perché l'assenzionismo non porta a niente, bisogna dire davvero io c'ero per cambiare. Votare naturalmente Vincenzo De Luca e tutta la compaggia di centro-sinistra. E negli ultimi giorni, insomma, in questi ultimi giorni alla vigilia delle elezioni, tanti gli annunci che arrivano su ogni fronte, quella più calda degli ultimi giorni è la riapertura del pronto soccorso di Agropoli. Ecco, qualche giorno fa questo annuncio immediata, anche la presa di posizione del sindaco di Agropoli, Franco Alfieri, è possibile secondo lei? Onestamente ci avrei pensato dieci volte, non due, perché se fossi stato nella compaggia di centro-destra, perché questa è una evidente mossa elettorale che a pochissimi giorni dalle elezioni si parla della riapertura del pronto soccorso di Agropoli. Si doveva capirlo prima, anzi non si doveva mai chiudere l'ospedale di Agropoli, il punto soccorso, per cui è davvero una mossa elettorale che credo sia controproducente alla compaggia di centro-destra. Le persone sono molto più avanti della politica, sono molto più avanti soprattutto di chi fa politica, di un certo modo di fare politica, sono molto più avanti, le persone capiscono che è una manovra puramente elettorale. La sanità però è stato uno dei temi caldi di questa campagna elettorale. Sicuramente, sì, perché risponde in prima persona ai bisogni della gente. C'è una risposta che sul nostro territorio è assolutamente carente, perché lo si è sempre detto, l'ospedale di San Luca è in sofferenza, come Polla, come Sapri, come Rocca d'Aspire. La chiusura dell'ospedale di Agropoli fa sì che un milione di persone nell'area dell'agropolese, dal capo accese di Castellabate, soprattutto d'estate, e rimane senza un'assistenza sanitaria corretta e da paese civile. Allora, la sanità, abbiamo detto, è uno dei temi caldi di questa campagna elettorale, senza poi tralasciare la viabilità, però anche sul fronte ai rifiuti è stato detto tanto. Detto tanto, sì, da sinistra e da destra. La destra che, voglio dire, difende questo territorio a tutta spadatratta, si fanno maestri non so di che cosa, però lo devo dire con un grosso rispetto e un grosso onestà. Se non sbaglio, proprio la destra voleva distruggere un territorio, cioè voleva distruggere la nostra area parco, e basta pensare, e io c'ero, basta pensare alla discarica che volevano creare al Laurito, è stata veramente una ferita mortale al nostro territorio. Una delle tante battaglie. Tante battaglie fatte, dei sindaci, me personalmente, sul nostro territorio, basta pensare a quello e non so il centro-destra, come faccio a parlare ancora di rifiuti, onestamente. Allora, lei è candidato nella lista di Campania Libera a sossegno del candidato presidente Vincenzo De Luca. Io l'ho già chiesto nei giorni scorsi, sta seguendo sicuramente anche il percorso pre-elettorale che sta facendo Vincenzo De Luca. Allora, ha avuto modo di ascoltarlo in questi giorni? Sì, l'ho ascoltato e lo vedo, naturalmente lo vedo circondato. Ecco, qual è lo stato d'animo? Penso che sia molto in grossa sofferenza, anche se lui, ciò che per una persona come me potrebbe essere davvero deprimente, potrebbe farti arrendere, farti desistere da ogni impegno, per lui penso lo ricarichi. Però, obiettivamente, è circondato da tutti i fronti, cioè dal fuoco nemico, ma anche e soprattutto dal fuoco amico, e mi dispiace dirlo. Secondo me è solo, noi siamo soli, e penso che Campania Libera sia la lista più, diciamo, la lista pretoriana, pretoriana però nel senso bello, nel senso non di servi sciocchi, ma una lista di fedelissimi, e io mi sento uno di questi, perché sono in questa lista del mio sindaco, perché io ho vissuto a Staderno, come tu sai, per cui in questa lista, in Campania Libera, sono i fedelissimi, i fedelissimi di Vincenzo De Luca, e di quelli più territoriali, quelle persone che sono più, amano più il territorio, e che sono più, per quanto mi riguarda, che più hanno fatto le battaglie, quindi le stesse battaglie che io ho fatto nell'area parco, nel Cilento, in questi anni, mi sento di portarli, portarli e farli anche per tutto, per la provincia di Salerno e per Salerno. Beh, in questi giorni le pagine dei giornali sono piene di informazioni che ci riportano a questo confronto a distanza tra De Luca e Caldoro, quello che è stato fatto, quello che non è stato fatto, però ecco, quello che va all'attenzione pubblica sicuramente è la composizione delle liste messa più volte in discussione, ma anche il dopo elezioni, mi riferisco alla vicenda giudiziaria legata proprio all'ex sindaco di Salerno, ieri la Cassazione ha rimandato alla decisione al giudice ordinario. Secondo lei che cosa potrà accadere? Che cosa accadrà? È questo un momento di meditazione anche per quanto riguarda, lei dice, la legge Severino? Va rivista, la legge Severino va rivista. Per un sindaco è normale, purtroppo è pane quotidiano, subire un reato di abuso d'ufficio. È normalissimo, solo chi non firma, chi non firma carte può non passare un problema giudiziario. Purtroppo è così, la legge italiana è piena di tante pale e paletti, se vuoi fare qualcosa devi quantomeno rischiare sempre nella legalità. Troppa burocrazia, un sindaco è facile che possa incorrere in questo reato di abuso d'ufficio. Vincenzo De Luca va dato l'immerito sacrosanto che si è fatto bandiera di poter cambiare la legge Severino, altrimenti se questa legge rimane, se lui non fosse paladino di questa lotta per cambiare Severino, davvero i sindici in Italia fra poco non lo farà più nessuno il sindaco. Quale sarà la sua prima richiesta al governatore De Luca? Le strade, le strade cilentane vanno riprese in prima, in prima, in prima, in prima, andiamo andati oltre, andiamo oltre. E poi naturalmente il lavoro, il lavoro fondamentale per i nostri giovani che non possono andare via, quindi i fondi europei non presi alla fine, giusto per un fatto elettorale, ma un team agguerritissimo di giovani, di persone che possono andarsi a prendere direttamente i finanziamenti a Bruxelles senza perdere tutti i soldi che abbiamo perso. La regione campagna ha perso. Quindi lei dice, nonostante i fondi di raccelerazione di spesa con il governo Caldoro sono andati persi i fondi europei. Ma la raccelerazione di spesa è ossigeno per i comuni, però ci porta, ci espone a un grosso rischio di non poter portare a consuntivo quello che noi spendiamo nella regione di spesa anche perché sui nostri uffici, l'ufficio tecnico, sui uffici di ragioneria dei nostri comuni sappiamo bene da quante persone sono composte e spesso e volentieri sono anche part time che hanno un carico di lavoro esagerato da dover fare per poter mettere le carte a posto e poter avere i proventi, i soldi da città di spesa. Quindi un carico di lavoro esagerato che noi comuni purtroppo non riusciamo a affrontare perché abbiamo comuni con ragionieri che spesso vanno a scavalco in altri comuni, segretari comunali che spesso sono a scavalco su altri comuni. Quindi non sono a tempo pieno. Di questo parliamo. quindi perché non si è fatto accesso ai fondi europei nei tempi giusti quando non c'era bisogno di correre ben venga corriamo anche noi però un grosso rischio di default se noi non riusciamo a portare a consuntivo tutti questi soldi. Uno schiaffo e una caretta guardando partiamo da Caldoro partendo proprio da questi primi cinque anni di amministrazione Caldoro uno schiaffo e una caretta c'è qualcosa che possiamo salvare o no? Quello che invece poi ha rappresentato un po' la mancanza di Caldoro sempre riferimento al nostro territorio da dove partiamo? C'è qualcosa da salvare o no? Da salvare sicuramente la politica istituzionale e il presidente della regione di Campania ha un suo stile questo va riconosciuto anche perché penso sia sua matrice socialista quindi la politica la sa fare questo sicuramente l'abbiamo visto poco nel Cilento e questo la politica la politica però dall'altra parte assolutamente scarse gli manca l'essere sindaco gli manca la concretezza il contatto con le persone al di là della stretta di mano formale la presenza capillare sui territori il sapore della il puzzo della strada quello che gli manca la concretezza che un sindaco come De Luca ha quindi uno schiaffo una carezza a De Luca c'è qualcosa insomma che va rivisto nell'operato di De Luca o salva tutto lei? De Luca va benissimo come politico ha una grande carica nervosa è sempre attento è sempre come dire sempre come dire concentrato nel fare le cose una cosa che non mi va forse alcune volte un po' troppo come dire dovrebbe frenare un po' il suo impatto mediatico troppo uomo di strada troppo uomo di strada però va bene così l'importante è portare i risultati delle persone fare i fatti e poi insomma va bene così va bene così con De Luca allora siamo davvero alle battute finali domenica lo ricordiamo si vota potremmo tenere accesi i riflettori su questa campagna elettorale fino a venerdì poi silenzio assoluto allora che cosa si sente di dire in queste ultime ore ai nostri telespettatori ai suoi concittadini prima di tutto quelli di Castelnuovo che la stanno seguendo passo passo che cosa le dicono a Castelnuovo i suoi concittadini sono entusiasti di questa sua candidatura perché i primi ecco a vederne gli effetti sono proprio loro io credo che abbiamo capito che è un'opportunità grandissima per il nostro comune perché naturalmente sono sempre sindaco di Castelnuovo Cilento e quindi è naturale il comune che rappresento rimane sempre nel mio cuore però quello che posso dire alle persone è che il 31 maggio obiettivamente è una data un appuntamento importantissimo che facciamo facciamo la storia si fa la storia del nostro territorio dell'area parco per cui non possiamo mancarlo non possiamo dire io non c'ero io l'ho distratto io ero al mare dobbiamo andare a votare votare Vincenzo De Luca ed ero sulla maida come uomo del territorio De Luca perché è l'unico che ci può trarre fuori da questo pantano con i suoi modi alcune volte bruschi ma poco importa l'importante è la sostanza e la sostanza lo dimostra il suo operato a Salerno quello che ha fatto a Salerno è là che testimonia l'importanza la validità la concretezza e anche l'utopia perché Vincenzo De Luca è anche un uomo che ha una grossa carica ideale idealistica ideale è una carica utopica molto importante oggi bisogna imparare a sognare non bisogna soltanto rimanere al taglio dell'economia ma bisogna De Luca sogna e io con lui noi tutti il 31 maggio andiamo a votare rispetto a 5 anni fa secondo lei che cosa sostanzialmente è cambiato? è cambiato che viene penso che è cambiata la percezione che si è visto che i sogni i sogni le promesse mancate della destra sono purtroppo per noi tutti sono state assolutamente non mantenute sono state assolutamente non realizzate non è stato realizzato niente manca l'esperienza amministrativa alla regione campagna ci vuole qualcuno che sappia quello che vuol dire governare una città come Salerno certo non è Napoli ma i micrismi sono quelli un uomo che sta trasformando Salerno può trasformare Napoli può trasformare la regione campagna e può finalmente rendere vivibile rendere migliore il nostro occidente non tenendo così abbandonato secondo lei i napoletani consentiranno questo momento di cambiamento io penso di sì anche su Napoli secondo lei Caldoro ha deluso un po' ripeto quello che ha fatto è il peggiore spot dell'onore di Caldoro sicuramente quello che ha fatto c'è che non ha fatto e poi queste cose di lo spavare del mare di inaugurare cose che ancora non sono realizzate all'ultimo momento veramente la campagna elettorale dei miracoli questa la campagna elettorale dei miracoli poi purtroppo i miracoli non sono così frequenti sono rarissimi ci vuole ci vuole lavoro sudore certamente ci vuole talento ma soprattutto sudore e tanto lavoro cose che Vincenzo De Luca farà allora invece parliamo di Eros La Maida lei insomma sta ricordando tante volte l'impegno di De Luca come ha trasformato Salerno ma invece che cosa può dare Eros La Maida da sindaco a consigliere regionale a questo territorio la presenza costante sui problemi come ho fatto sui problemi del nostro territorio dai rifiuti agli operati agroforestali la sanità i trasporti cioè la presenza costante che solo un sindaco sai un sindaco che veramente sente il territorio che lo vive che chiede credere il voto alla gente e alle persone è molto difficile in questo momento poi ancora di più uno ci mette la faccia quindi quantomeno bisogna impegnarsi affinché la faccia che tu metti possa davvero realizzare quello che tu dici non realizzare tutto sicuramente il 100% neanche sicuramente no forse neanche l'80% ma sicuramente l'impegno sarà massimo altrimenti uno la faccia non ce la mette dentro allora mettiamoci la faccia la telecamera è lì facciamo questo appello agli elettori il 31 maggio davvero ora non è più andiamo a votare i nostri figli ci guardano testimoniamo che noi vogliamo e possiamo cambiare il nostro presente e il futuro dei nostri figli votiamo il 31 maggio Vincenzo De Luca la regione di Campania ed Eros Lamaida e ve ne sono grato in Campania Libera grazie sindaco grazie grazie a te allora salutiamo e ringraziamo Eros Lamaida candidato nella lista Campania Libera per De Luca presidente allora ci fermiamo qui per questo spazio autogestito da lunedì in poi commenteremo il risultato delle elezioni quindi sicuramente aspettiamo anche lei nei nostri studi per un primo commento al voto grazie 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 a te 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 grazie a te